La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si schiera ancora una volta a favore del sociale. Quattro biciclette e un tavolo da ping pong sono stati donati questa mattina dalla società Biancorossa a Casa Tabanelli, struttura di proprietà della Fondazione Lions e gestita da Caritas. Un importante contributo e soprattutto è un segno importante di vicinanza. È proprio la volontà di vivere un territorio in maniera nuova, in maniera diversa e questo ci fa molto piacere. La VL, la Carpegna Prosciutto e la famiglia Beretta hanno deciso di abbracciare la fragilità facendo un progetto con Caritas e di questo ne siamo veramente molto grati. È stata effettuata questa raccolta fondi in cui sono state donate quattro biciclette nuove e questo per noi è molto importante perché sono da restituire agli ospiti della casa per potersi recare al lavoro e per poter vivere una socialità nella città di Pesaro in maniera diversa e questo è una cosa molto importante proprio perché l'obiettivo della casa è quello di reinserire le persone nel mondo del lavoro e per cui questo ci aiuta in questo processo. Un'altra cosa che è stata donata, sembra quasi una banalità, invece è una cosa molto importante, è un tavolo da ping pong per stare qui dentro la casa e questo ci aiuta a lavorare sulla socialità degli ospiti, a creare un ambiente positivo, a creare un ambiente in cui le persone hanno voglia di stare insieme perché ormai sappiamo che le relazioni e la cura delle relazioni sono proprio alla base di un cammino di riscoperta di se stessi e di risoluzione della povertà. Un gesto magnanimo che è stato reso possibile grazie all'iniziativa Warm Up Your Passion con la vendita di 13 soprammaglie che i giocatori della VL hanno indossato nel pregara del match del 21 gennaio scorso contro Verona. Ogni canotte è stata acquistata online al prezzo di 150 euro. Noi siamo sempre disponibili a renderci partecipi per la realizzazione di queste iniziative di solidarietà. È importante perché con l'acquisto di biciclette piuttosto che di un tavolo da ping pong si rende la casa più abitabile, più vivibile, più in senso molto di amicizia. Noi siamo riusciti a raccogliere questi fondi attraverso la vendita di soprammaglie che abbiamo utilizzato in una partita di campionato, soprammaglie particolari disegnate apposta per l'occasione e devo dire che il ringraziamento più grande va a tutti quegli appassionati e tifosi che hanno acquistato. L'acquisto delle maglie è stato veramente velocissimo perché la settimana dopo erano già esaurite, quindi il ringraziamento più grande va a loro. Noi siamo stati partecipi di questa iniziativa ma il ringraziamento più grande va a questi tifosi che le hanno acquistate e hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa. Quello che noi proviamo a fare nelle giornate in cui siamo con loro è semplicemente farli sentire un po' anche a casa. C'è un episodio che mi ha colpito perché qualche tempo dopo che avevo iniziato a fare il volontario ho incontrato uno di loro in centro, l'ho subito salutato e lui quasi si era stupito che lo salutassi perché forse non gli capita mai che qualcuno della città di Pesaro lo saluti, lo faccia sentire cittadino pesarese. E questo mi ha fatto capire quanto sia importante per loro avere un compagno anche durante le giornate che passano qua in città. Quanti ospiti ci sono e quali servizi possono usufruire al suo interno? Generalmente il numero varia dai 10 ai 12, quando veniamo noi a fare servizi noi troviamo sempre questo numero. Gli diamo la possibilità di cenare con noi, insieme a noi, dormire, la prima colazione e poi chiaramente loro escono dalla casa e fanno le loro attività, chi lavora attiva e chi in cerca di lavoro. L'obiettivo è quello di avere un punto di riferimento certo per poi avere la possibilità di integrarsi il più possibile nella nostra società, nella nostra città.